ormai in casa juve c'è un problema che si porta avanti da tanto tempo che non ha a che fare col processo plus valenzo quant'altro ma che fare un po più su quello che è il campo scopriamo insieme nel dettaglio cosa succede perché in vista di quella che la sfida contro il napoli una sfida che ora prende valore che ora prende molto più importanza rispetto a prima ecco che è importante analizzare questo tipo di situazione andiamo nel dettaglio scopriamo tutto come sempre ricordo il quiz fcm sport sarete costantemente aggiornati sia per quanto riguarda la notizia di campo che per quanto riguarda l'extracampo quindi se vi va iscrivetevi attivando quella che è la campanellina qui sotto delle notifiche per avere gli aggiornamenti sui nuovi contenuti e allora in casa juve c'è evidentemente un problema che è abbastanza chiaro è inutile girarci intorno questa è una squadra che da quando l'alieno perché di quello si trattava cristiano ronaldo ha lasciato la juventus c'è un problema la juventus non segna più o quanto meno ha enormi difficoltà a segnare e sì perché prima era facile pensare alla juventus come una squadra che segnava tanto perché quando è a che fare con cristiano ronaldo che ti piaccia o meno è a che fare con uno che ti trasforma praticamente tutti i palloni in gol un giocatore che tra l'altro è stato addirittura criticato ricordo ancora le critiche a cristiano ronaldo come giocatore tempi della juventus ricordo che ero qui a dirvi guardate che nella juventus gioca un alieno che poi magari avrà 35 anni e quindi non ha più la tenuta fisica di un tempo non ha più la mentalità di un tempo ma vi assicuro che a 35 anni fare tutti questi gol in italia che ha dimostrato di essere un campionato complicato per gli attaccanti beh non lo date per scontato ovviamente tifosi di gli uventus davano per scontato i risultati e i gol fatti di ronaldo oggi ci rendiamo conto che quello evidentemente invece era un giocatore di un altro di un altro livello ecco che l'ultimo cristiano ronaldo bianconero quello di pirlo aveva 36 anni e in una sola stagione ha segnato più di tutti gli attaccanti della juventus messi insieme perché vlauic ha fatto 11 gol milic ha fatto 8 gol di maria 8 chiesa 2 stiamo parlando di un attacco veramente troppo sterile dall'addio di cristiano ronaldo alla juventus quel addio burrascoso brutto anche da vedere antipatico che probabilmente nascondeva tante cose che non sono mai venute fuori la juventus ha acquistato tre attaccanti prima moise ken estate 2021 dall'everton che era una cifra esorbitante lasciatemelo dire 30 milioni tra prestito e riscatto poi dusan blauvic a gennaio 2022 dalla fiorentina per 70 più bonus e poi arcadio schmilic per una cifra intorno al milione di euro potrà essere riscattato per altri 7 dal marsiglia con abbiamo detto diritto di riscatto a 7 milioni ecco in questo momento i tre giocatori almeno in questo momento siamo praticamente vicini alla fine del campionato hanno segnato tutti insieme 27 gol questi tre insieme hanno fatto 27 gol meno del ronaldo della stagione 20 21 che aveva fatto una quantità di gol che per essere un attaccante di 35 anni era veramente tanta roba stiamo parlando quindi di un giocatore che ai tempi risolveva secondo me molti dei problemi della juventus molti dei problemi e risolveva anche molti problemi delle a juve la prima juve quando c'era cristiano ronaldo con allegri ecco che oggi l'attacco la juventus è totalmente nuovo e ha dei problemi evidenti però c'è anche un aspetto da considerare che gli attaccanti vanno anche messi nelle condizioni di poter attaccare non e di segnare non sempre infatti quando l'attaccante non segna è solo colpa dell'attaccante perché se tutta la se solo blauvic non segna e allora lì è blauvic che non segna vuol dire che c'è qualcosa che non va se invece sono tutti gli attaccanti la juventus avere dei numeri quantomeno rivedibili e allora probabilmente il problema sta a monte cioè il tipo di gioco sviluppato all'eventus di max allegri ricordiamoci infatti che ronaldo nei tre anni che ha fatto l'eventus l'anno in cui ha segnato meno è stato proprio quello con col buon allegri ricordiamoci anche che lo stesso iguain veniva con sarri da 36 gol in campionato poi va alla juventus e ne fa una ventina quasi 16 15 gol in meno questo cosa vuol dire vuol dire che evidentemente nel gioco di max allegri l'attaccante non è poi chiaramente quando hai un iguain o un ronaldo che arrivano a 30 a 35 anni hanno una mentalità diversa e hanno anche un'esperienza diversa quindi comunque i gol te li fanno anche quelli complicati te li fanno ma si chiamano iguain e ronaldo vlauic che è un attaccante di 23 anni che ancora molto da imparare in questo tipo di gioco mi sembra assolutamente ingabbiato e non è che ken milic stanno facendo 20 gol a campionato anche loro sono in quella scia lì quindi evidentemente è un problema perché questa juventus c'è e vuol dire che è una juventus che non riesce a creare gioco non riesce a svilupparlo questo gioco che non riesce a mettere i attaccanti in condizioni di poter far gol questo quindi cosa vuol dire vuol dire che evidentemente secondo me piuttosto che pensare a fine anno di vendere vlauic vendere milic vendere ken vendere chiesa e compagnia cantante forse sarebbe il caso e non è tornare al solito discorso alle green allegri auto ma pretendere dal proprio allenatore un qualcosa di diverso perché facciamo anche da un punto di vista prettamente economico se tu hai investito 30 milioni per ken e 75 per per vlauic vuol dire che ci sono in ballo 100 110 milioni di valore come puoi pretendere di vendere questi due giocatori a cifre quanto meno simili a quelle a cui le acquistate se segnano molto meno rispetto al passato perché ken al bsg segnava e non parliamo neanche di vlauic di quello che faceva vlauic alla fiorentina è vero molti diranno è ma un conto è segnare alla fiorentina un conto è segnare alla juventus benissimo ma potrebbe dirlo perfettamente anche spalletti quando prende il napoli prende dal dal lille victor osimen e non mi sembra che all'ill facesse fratelli invece dopo al napoli è ridimensionato ecco questo discorso del altrove fai bene qua fai male perché questa è la juventus vuol dire fino a un certo punto perché ci sono anche dei giocatori che prendiamo per esempio federico chiesa e dico che sa veniva anche lui dalla fiorentina e invece nonostante ciò tu hai avuto la maturità per poter fare meglio addirittura rispetto a quanto faceva la fiorentina ci sono però ruoli e ruoli un conto è bremer che come difensore deve difendere e alla juventus puoi difendere visto quanto c'è da difendere ma per un attaccante c'è veramente poco da fare c'è pochissimo da fare e lasciamo stare il discorso legato alla fiorentina attaccava la spazio mentre era più in pro giocava più in profondità mentre qua difende il pallone perché un attaccante queste cose le deve fare inutile girci intorno se costi 75 milioni vuol dire che devi saper fare tutto e attenzione però è anche vero che per un attaccante poi subentra il problema del gol quando non segni per 1 2 3 4 5 partite nella tua testa si crea qualcosa qualche meccanismo negativo e in quella di vlavic che ha 23 anni è sicuramente successo qualcosa sta sicuramente succedendo qualcosa ed è opportuno per la società intervenire per questo io credo che anche un cambio allenatore per il prossimo anno chiaramente non parliamo di questo a prescindere a come andrà la stagione è comunque necessario per creare valore quello che diciamo spesso allegri è stato preso nel 2021 e in conferenza ha parlato di un di un obiettivo quello di creare valore ma evidentemente non c'è riuscito per tanti di questi giocatori perché chiesa lo abbiamo detto tante volte io il miglior chiesa l'ho visto con pirlo e con la nazionale non con allegri io il miglior culuseschi l'ho visto con pirlo e non e poi al tottenham con conte ma non con allegri io il miglior vlavic ho visto alla fiorentina con brandelli prime con vincenzo italiano dopo non con allegri sono tanti i giocatori che l'unico forse è raviò ma parlando di attaccanti in fase d'attacco io mi viene da pensare che questa juventus abbia qualche problema lo stesso ken l'ho visto meglio col psg che non con la juventus quindi evidentemente c'è un problema evidentemente a monte c'è un problema e secondo me va assolutamente risolto e potremmo dire la stessa cosa di alvaro morata l'anno scorso il problema erano morate di bala oggi sono vlavic e milic evidentemente c'è un problema da un punto di vista offensivo per questa juventus ditemi la vostra qui sotto nei commenti secondo voi qual è il problema juventus in fase offensiva se evidentemente ronaldo camuffava tanti problemi ma che poi evidentemente poi stringi e stringi vengono fuori secondo voi è giusto non so prendere questi attaccanti e venderli tutti e prenderne nuovi oppure evidentemente c'è un problema più importante a fondo come penso io ditemi la vostra qui sotto non so prendere le tante